Salve a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Francesco Lepiccolo e oggi vi darò la mia opinione sull'ultimo DPCM. Allora, l'ultimo DPCM è avvenuto domenica 25 ottobre. Allora, DPCM sta per decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Allora ragazzi, questo DPCM è totalmente assurdo. Infatti, prevede che la chiusura di cinema, teatri, piscine, palestre, la chiusura delle scuole superiori e i ristoranti devono chiudere alle 6. Allora, io voglio capire una cosa. A pranzo il virus non si prende, mentre di sera, secondo Conte, si prende. Quindi chiudiamo lì alle 6. Che dopo la scuola, che potrebbe essere un veicolo per l'infezione, è aperta. Che dopo i ristoranti hanno dovuto subire tutte le spese per la sanificazione, per il plexiglass. Hanno dovuto mettere i tavoli distanziati, quindi questo significa la metà del guadagno. E adesso dovrebbero campare soltanto del pranzo. È impossibile. Dopo ci sono le palestre. Le palestre che hanno mantenuto delle norme igieniche adatte per rimanere aperte, le chiudono. Invece i trasporti pubblici, che sono pieni di gente, sono aperti. Si possono utilizzare. Queste qui sono le logiche del nostro governo. In varicitte italiane stanno scoppiando delle, diciamo così, rivolte. Allora ragazzi, io do la mia solidarietà ai ristoratori e ai lavoratori che hanno chiuso per questo nuovo DPCM. Allora ragazzi, io vi invito a mettere il mi piace e di iscrivervi al canale. Detto questo, io vi saluto. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao, ciao.